Buongiorno, un caro saluto a tutti voi che ci seguite come ogni mattina nella rassegna stampa alle 7.30, numerosissimi. Iniziamo insieme la giornata con l'informazione, questo è occhio ai giornali, guardiamo prima però l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo, partiamo dal Santo, Sant'Ernesto Abate, sabato 7 novembre, il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 16.52, le previsioni del tempo, partiamo da questa bella immagine che ci rimanda alla nostra webcam, come vedete un bel cielo terzo, soltanto una leggera velatura, ma i raggi del sole sono adagiati sulle colline, quindi questo fa sperare bene, guardiamo la temperatura, ci sono quasi 9 gradi e quindi insomma è in linea con la stagionalità. Le previsioni del bollettino della protezione civile Marche, praticamente vi annuncio che sono tre cartine fotocopie praticamente, quindi ci sarà un weekend e anche un inizio di settimana molto bello, come vedete cielo sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, lieve aumento delle temperature, il mare è poco mosso, vedete nuvolosità assente sulla costa, leggermente presente sui rilievi e anche per domani, vedete domenica poco nuvoloso, nessuna precipitazione, temperature in lieve aumento e possiamo fare la stessa cosa per lunedì e quindi cielo sereno, poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature qui in leggera diminuzione, insomma in leggera diminuzione e insomma mare poco mosso, quindi insomma vedete tre giornate copie a carbone come dico io e insomma all'insegna anche se volete di qualche gitta fuori porta, ci sono tante cose fuori in giro e anche su Fano per passare un weekend all'insegna della spensieratezza e anche dello svago. Allora guardiamo i giornali, partiamo dal Corriere Adriatico, naturalmente l'evento clou di questo weekend che catalizza un po' l'attenzione di tutto il mondo su Tavuglia e sul MotoGP dedicato a Valentino Rossi che se la gioca tutta pur partendo dall'ultima fila a Valencia e quindi apertura del Corriere Adriatico di Pesaro per la febbre gialla, la speranza è work in progress, anche tifosi eccellenti in viaggio verso Valencia per tifare direttamente lì a Valentino, il racconto di 1600 avventurosi chilometri, tanti ne distano fino a Valencia, insomma e quindi vedete volti noti, anche il presentatore di X Factor, insomma ci sarà un weekend all'insegna del tifo, Graziano Rossi, il papà di Valentino su un Ford Transit con la figlia Clara e gli amici di Bologna, Stefania la mamma è già lì e non ci sarà il fratello di Valentino, Luca Marini, anche lui pilota motociclistico ma è in gita scolastica. Ancora nelle pagine del Corriere però che riguardano sempre Pesaro cambiamo decisamente argomento, andiamo nella cronaca, maxifurto di erba medica, quattro denunciati, rubarono a Terra Bio oltre 1500 quintali di prodotto per un valore di circa 500 mila euro, tutto recuperato, brillante operazione, scacco al crimine della questura di Pesaro e Urbino, assicurati alla legge questi malviventi e poi un addio a Maria Pia Gennari, si è spenta a 61 anni nella sua abitazione, una vita tra scuola e politica, la vedete qui in questa foto, ha lottato contro una lunga malattia però con la tenacia e la riservatezza che l'hanno sempre contraddistinta. Andiamo a Fano, sempre per il Corriere Adriatico, esautoriamo le pagine del Corriere, anche qui in primo piano la cronaca, altri dieci colpi del bandito seriale, stiamo parlando di quel bandito che andò a far visita alla farmacia Rinaldi e il suo titolare ebbe anche una collutazione abbastanza cruenta con lui, se vi ricordate le foto sui giornali del suo volto completamente intriso di sangue, è stato arrestato questo bandito seriale perché sono stati attribuiti a lui, gli ha confessati diversi colpi e faceva tutto da sé, ne ha messi a segno anche qui a Fano, vedete il vicequestore Seretti che insomma ieri in conferenza stampa ha detto i particolari, ha denunciato tutti i particolari di questa operazione e poi di spalle qui Lacoppola con Seric sindaco per un giorno, Roberto Lacoppola il disabile che farà il sindaco per un giorno sarà il terzo sindaco per un giorno a fare questa esperienza nelle stanze del comune di Fano. Andiamo vicino a Marotta per la questione del passaggio a livello, sospensione del passaggio a livello, il sindaco Cavallo è soddisfatto della sospensiva non concessa e quindi un'opera della discordia questa del passaggio a livello per il Tar, il nostro progetto però è valido. Allora il sindaco a breve, porteremo in consiglio la firma della convenzione tra le ferrovie dello Stato e l'amministrazione. Cambiamo testata, andiamo nel messaggero, anche qui vale scoppia la febbre gialla partita l'invasione di Tavuglia da parte dei tifosi, il sindaco ci ha detto che insomma si aspettano tra gli 8 mila e i 10 mila tifosi, 6 schermi giganti in provincia, anche a Pesaro, un po' sparsi in tutta la provincia, prove libere a Valencia con tutti i big in una manciata di decimi, sarà bagarre, insomma quindi sarà lotta dura. Foto notizia per il procuratore capo Palumbo che ha consegnato la toga d'oro, dopo vedremo anche il suo messaggio agli avvocati quale stato nelle pagine interne, anche qui la coppa, il sindaco per un giorno fu anche protagonista affano di una raccolta fondi dopo che gli avevano rubato il mobility, insomma la carrozzina motorizzata. Ufficiale è la notizia che Pesaro è candidata a città europea dello sport, l'investitura è arrivata direttamente dal presidente del CONI, Malagò, il weekend è un weekend all'insegna del bel tempo, lo abbiamo visto, e poi Rossini Opera Festival, vale un'eccellenza delle marche, la regione si impegna nei fondi, è un'iniziativa in crescita sia come incassi che come spettatori e nel 2016 due nuove produzioni, la Donna del Lago e il Turco in Italia. Turismo è già un format dell'estate anticipata, è stata varata l'iniziativa, incontrano i bagnini, è stato un incontro da parte dell'amministrazione con i bagnini ed è stata presentata la nuova formula all'insegna dello slogan a Pesaro, il sole arriva prima, insomma ci sono inventati, hanno coniato un nuovo slogan, l'estate arriva prima, dopo vi assicuriamo il sole, insomma questo sarà il live motiv di quest'estate, piano spiaggia, lo stop della sovrintendenza, trova d'accordo anche i ristoratori della Conf Commercio. Anche qui l'addio a Maria Pia Gennare, il volto gentile dell'amministrazione. Avvocati, ecco vi dicevo il messaggio di Palumbo agli avvocati nella consegna della Toga d'Oro, un monito più che un messaggio che dice per i 40 anni dell'attività forense, avvocati attenti alla rabbia di arricchirsi da fiscopoli alle truffe, alle escurazioni, dito puntato contro quei legali che hanno tenuto un comportamento da lui appunto definito disinvolto. L'ultima pagina del messaggero è quella di Fano, qui praticamente la pagina è quasi totalmente occupata dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sala della Concordia per l'ambito sociale 6, è ora di voltare pagina, però prima di fare questo l'assessore Barnesi tira frecciate contro i 5 stelle per le polemiche e le considerazioni fatte da loro su questa vicenda e il coordinatore protempore Mandolini dice anziché dare risposte a delle interrogazioni dai contenuti un po' insulsi vorremmo concentrarci sull'operatività. Ritrovate a Magliano tre bombe da mortaio risalenti alla seconda guerra mondiale e poi questo pomeriggio alle 17.30 presso la chiesa Sant'Arcangelo viene presentato un libro dall'azione cattolica diocesana, Immigrazione sfida per una nuova Italia, quindi presentato un libro sul fenomeno dei migranti. Guardiamo la pagina del resto del Carlino che riguarda Pesaro, è anche l'ultima testata che prendiamo in considerazione per questa mattina, c'è il via libera al sole anticipato, i bagnini potranno aprire a maggio, ecco questo è il significato, si apre prima, il comune dice sì al piano spiaggia, l'assessore cade dalle nuvole, Stefania De Regis, i pareri con le prescrizioni apparsi sui giornali non sono arrivati in comune, ecco perché cade dalle nuvole, vedremo nel corso dell'iter cemento in più, non solo docce e servizi, insomma anche qui sulla cementificazione delle spiagge leggeremo altre notizie, ancora il commercio è in crisi, è sempre più in crisi e resistere a questo è sempre più difficile, soprattutto per i costi elevati di gestione che riguardano gli esercenti e gli esercizi commerciali, soprattutto nel centro e allora la ricetta è resistere in centro grazie anche all'abbattimento dei costi. La curia riduce gli affitti, unica strada possibile per la crisi del commercio, far continuare a vivere i negozi o appunto restano ahimè chiusi. Davide Ipaso di Confcommercio dice negli ultimi dieci anni i valori immobiliari a Pesaro sono cresciuti del 185%, quei tempi sono finiti ahimè con la crisi, insomma è anche il caso storico di uno storico caffè della piazza, il nero caffè avrà un futuro con il canone ridotto del 50% con il punto interrogativo, vedremo. Ancora dalle pagine di Pesaro vediamo un sondaggio che riguarda il sindaco Matteo Ricci, è stato fatto un sondaggio dalla Sigma Consulting, sono state contattate 2800 persone, solo 600 di questi pesaresi hanno risposto, hanno risposto questi 600 però con un voto favorevole perché nonostante un calo del 7% dei consensi il primo cittadino tutto sommato viene promosso, però sono stati espressi anche dei giudizi negativi, il sindaco appunto arretra nei consensi ma rimane ancora sopra il 53%, la visibilità di Matteo Ricci per i cittadini lavora molto bene su eventi e turismo e va in tv diciamo più per sé che per la città, questo è il parere dei cittadini consentiti, però insomma detiene ancora il record su Twitter come follower, vedete ampiamente sopra i 9000, molti rifiuti sui 2800 contattati, soltanto 600 hanno risposto, temi positivi di Matteo Ricci sono appunto turismo, la red urbano, favorire l'integrazione e anche la visibilità della città, insomma portarla sulle cronache, farne parlare, questo è sicuramente un motivo forte del sindaco di Pesaro, però anche le lacune su la gestione delle strade, dissesto idrogeologico e anche un sostegno alle imprese non ha un giudizio negativo, non ha un giudizio positivo dei cittadini. Questo era il sondaggio che riguardava Matteo Ricci pubblicato sul Carlino di quest'oggi, andiamo a Fano, sempre per il quotidiano bolognese, pranzo solidale per poveri e migranti. Oggi ai disoccupati verrà offerto un pranzo al mercato ittico, si attendono circa un centinaio di persone, sono quelli che vanno abitualmente alla mensa di San Patriniano, ma anche estesa ad altre famiglie, ad altri nuclei, ad opera dei cuochi della marineria fanese. Tra i partecipanti, appunto, oltre ai politici, è atteso anche il vescovo Trasarti. Il prossimo pasto gratuito sarà per le festività natalizie. Vedete le foto, si riferiscono a quello dell'anno scorso. E poi il caso Solaris, gli autisti soccorritori delle ambulanze. C'è stato durante questa settimana un vertice in prefettura a Pesor che ha dato una fumata nera, non si è arrivato a nulla di fatto e quindi, insomma, crisi solari, i dipendenti, i solaris dipendenti sono in sciopero. La cooperativa dei trasporti sanitari non paga da mesi, sono da luglio, senza stipendio e quindi almeno stop a straordinari e notturni, perché non possono sospendere completamente il servizio in quanto andrebbero incontro alla precettazione. Però, insomma, almeno fermano gli straordinari e lo sciopero. Vi faccio vedere un'ultima cosa sul resto del carlino, una pesca straordinaria, una pesca veramente che ha dell'incredibile. A Marotta, in un lago per pesca sportiva, è stato pescato un pesce siluro, della lunghezza di 2,6 metri e del peso di oltre 100 kg. Vedete qui nella foto, è veramente un mostro, è gigantesco. Guardate, in confronto alle persone che lo hanno pescato, come sarà arrivato in questo lago, Rondini, il gestore, dice, non si sa, forse è stato gettato da qualcuno anni fa, viste le sue dimensioni, veramente impressionanti, è costato veramente ore e ore di lotta ai pescatori per tirarlo fuori dall'acqua. E poi, San Costanzo, brutta pagina di, insomma, di scarso senso civico da parte di qualcuno, getta tutto nell'isola, è stato denunciato. C'era veramente di tutto, peluche, gratte, gomma piuma, dieci sacchi pieni di materiali di ogni tipo, alla faccia della raccolta differenziata. Brutto spettacolo, visibile ieri mattina anche in foto, sono girate anche su Facebook e il vigile mentre fa i rilievi, lo vedete, insomma, nell'isola ecologica della strada San Vittorio a San Costanzo. E quindi c'era anche una telecamera e sarà rintracciato e denunciato. Bene, questa era l'ultima notizia che vi leggevo sui giornali che troverete questa mattina in edicola e che, insomma, potrete consultare comodamente nel vostro bar preferito oppure a casa, insomma, leggerli nella tutta tranquillità della vostra mattinata. Bene, grazie per essere stati con noi. Occhio ai giornali, torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente. Buon weekend e buon sabato a tutti voi. Alla prossima. Grazie a tutti.